buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa lettura di oggi giriamo subito le nostre carte e chi vuole può mettere in pausa guardare bene le carte e dare la propria interpretazione cominciamo con un re di denari una papessa e un asso di spade ebbene limitandoci a guardare le tre carte principali sembra che c'è un qualcosa su cui stiamo riflettendo qualcosa di importante perché sapete i re di denari sono persone molto concrete molto pratiche quindi oggi in questi giorni comunque abbiamo davvero un'energia abbastanza solida siamo ci troviamo in una posizione dalla quale prima di compiere qualunque gesto ci riflettiamo molto bene pensiamo alle conseguenze e questo è sicuramente importante il nostro re di denari tra l'altro sembra stare particolarmente bene sembra guardare un po al passato guardare un po a quello che è accaduto e proprio in base a quello che è accaduto recentemente dovrebbe prendere questa decisione relativa al dire o non dire e se dico che cosa dico questa parte centrale della stesa come voi sapete riguarda può riguardare qualunque ambito della vostra vita mentre invece l'amore lo affronteremo nella seconda parte quando andremo a guardare cosa accade al nostro sacro maschile e al sacro femminile dunque tornando al nostro re di denari con la papessa c'è davvero questa pausa di riflessione ma anche di osservazione io credo che prima appunto di scegliere di decidere non solo ci pensiamo molto bene ma osserviamo osserviamo gli altri osserviamo ciò che sta accadendo e infine il nostro asso di spade sarà proprio la nostra parola sarà la nostra decisione presa ma vediamo le carte aggiuntive che altri indizi ci danno con con i deliranti e il sei di bastoni con la lettera e il re di denari di nuovo un re di denari quindi abbiamo un'energia ridondante molto forte questa sensazione di questo senso di solidità non ci muoviamo dalla nostra posizione non ci spostiamo da dove siamo noi siamo molto ma molto sicuri di noi questo re di denari davvero è seduto sul trono e non si muove sta lì e da lì osserva e infine l'asso di spade accompagnato dall'amore dal tre di spade bene quindi cosa sta accadendo al re di denari il re di denari sente cose ascolta cose guarda e guarda appunto quello che fanno e che dicono gli altri perché sembra molto importante essere a conoscenza di ciò che gli altri stanno pensando o stanno dicendo è come se raccogliesse informazioni ma poi dopo averle raccolte decidesse se sono valide o non sono valide se dargli credito o non dargli credito quindi se si tratta di questioni lavorative professionali sicuramente sta ascoltando un po di voci in giro se si tratta di questioni dell'ambito relazionale sicuramente sta sentendo che cosa dicono gli altri magari che so potrebbero essere perfetti e strane che parlano oppure potrebbero essere degli amici dei conoscenti dei parenti che ci dicono qualcosa o i nostri colleghi di lavoro appunto che parlano 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 e hanno sempre qualcosa da dire ma con il 6 di bastoni il re è molto sicuro di sé crede che queste informazioni siano molto utili e infatti insieme alla papessa abbiamo la lettera il re di denari quindi ritorniamo all'energia di solidità e la lettera stiamo ricevendo stiamo ricevendo esattamente quello che ci serve forse qualcuno forse qualcuno viene proprio da noi con l'intenzione di dirci delle cose di essere chiaro ed esplicito e di informarci o magari siamo noi siamo noi che in senso metaforico scriviamo questa lettera fatto sta che la nostra ultima parola è il nostro asso di spade con l'amore il tre di spade va bene va bene perché parlare con amore parlare con il cuore è sempre la scelta migliore indipendentemente da quello che dobbiamo dire conta molto il come lo diciamo o il come le cose ci vengono dette essendo un oracolo può avere un senso ambivalente può essere qualcuno che parla a noi o possiamo essere noi che parliamo a qualcuno fatto sta che il silenzio viene rotto solo ed esclusivamente dopo avere pensato bene a cosa dire perché purtroppo non tutto ciò che viene detto è piacevole non sempre a volte bisogna anche dire cose brutte dare brutte notizie o magari non sono brutte notizie però possono apparire così o possono essere prese un po male o magari si tratta di cose che sul breve termine sembrano brutte poi sul lungo termine invece si rivelano delle grandissime fortune e credo proprio che sia credo proprio che la cosa più importante di questa di questo nostro asso di spade sia l'amore con cui noi parliamo la sensibilità con cui ci esprimiamo o gli altri si esprimono nei nostri confronti adesso andiamo a vedere il nostro sacro maschile il nostro sacro femminile wow un altro tre di spade con un sei di coppe vedete c'è un'altra energia ridondante che quella del tre di spade quindi quella delle cose difficili quella delle cose un po pesantucce da dire e da gestire il nostro sacro maschile che non significa uomo ma significa semplicemente persona che sta canalizzando un'energia più maschile a questo a questo tre di spade con l'amante e con la regina di denari ci sono molti denari moltissimi denari in questa stesa sembra proprio che lo star fermi e fare le cose con calma sia la parola d'ordine di questi giorni e il maschile un po turbato sicuramente pensa all'amore e come se pensa all'amore e pensa a un amore che se non è un amore perduto è comunque un amore che come dire per qualcuno potrebbe essere un amore lontano un amore con cui abbiamo preso le distanze oppure un amore che un amore che prima veniva vissuto in un certo modo e adesso invece viene vissuto con un certo senso di distacco e questo distacco fa male non è piacevole non c'è più quella sintonia al cento per cento che abbiamo provato in determinati momenti quella capacità di dialogare che abbiamo parlato che abbiamo provato in certi momenti non c'è più il non c'è più quella fusione in cui siamo una cosa sola o forse non c'è mai stata per qualcuno di voi quindi è quello è esattamente quello che manca ma allo stesso tempo abbiamo un maschile che non ha fretta abbiamo un maschile che sa aspettare che sa che capisce che per elaborare un dolore o un momento difficile o dei pensieri brutti e negativi ci vuole del tempo e infatti non c'è nessuna fretta perché la nostra regina di denari nel frattempo è circondata da tutto ciò che gli serve quindi è circondata dall'abbondanza materiale o dall'abbondanza che magari riguarda il mondo delle amicizie o la famiglia quindi gli affetti più importanti e più solidi o in alternativa appunto può trattarsi dell'abbondanza dataci dal nostro stesso partner nonostante i momenti difficili noi possiamo anche litigare noi possiamo anche sentirci distaccati ma ciò non significa che l'altro per noi non c'è e ciò non significa che l'altro non è non è pronto a esserci vicino se ne abbiamo davvero bisogno o nelle cose importanti comunque quindi ecco per ciascuno di noi sarà ovviamente gestita e vissuta in una forma molto diversa ma la sofferenza del maschile è innegabile è evidente e va elaborata con tanta con tanta calma ma mentre il maschile pensa all'amore il femminile ricambia e come se ricambia con un sei di coppe una casa e un due di spade e la nostalgia di ciò che è passato e di ciò che è stato c'è sicuramente tra l'altro io qua vedo proprio anche fenomeni di comunicazione mentale ed energetica in atto perché le energie sono simmetriche sono molto compatibili quindi ecco io penso a te come tu pensi a me al di là della forma del pensiero al di là del sentimento dietro al pensiero forse il sacro maschile ha una energia in questo momento un po più triste un po più negativa mentre invece il femminile la sta vivendo con meno pesantezza sì questo è vero però anche il femminile sta pensando tanto e anche il femminile sta ripensando ai momenti belli del passato sta ripensando proprio a quelle situazioni in cui c'era una sintonia un'armonia è una è una complicità che non sempre si può avere non tutti i giorni e non in tutti i periodi siamo esseri umani lo sappiamo oscilliamo come tutto la vita oscilla le nostre emozioni e le nostre relazioni oscillano ed è normale che sia così la calma piatta non esiste ma il femminile ecco lo fa con più serenità lo fa con una pace interiore diversa sempre nell'indecisione perché si è vero il due di spade non sa forse da che parte stare o andare il femminile un po combattuto un po spaccato in due ma anche qui non c'è fretta di decidere non ce n'è perché qui il femminile sa che quando bisogna prendere una decisione bisogna scegliere una cosa e rinunciare ad un'altra e quindi è importante capire a cosa siamo disposti a rinunciare ed ecco perché pensarci bene pensarci bene è importante in questa fase vediamo però vediamo però segno per segno cosa sta accadendo di preciso e vediamo appunto in che modo tutti i nostri segni zodiacali stanno gestendo questo momento le loro emozioni quindi intanto io vi ricordo che se volete una sessione privata con me potete scriverci oppure potete prenotare dal sito internet e se volete informazioni sui videocorsi a disposizione videocorsi di tarologia di crescita personale o di magia d'amore potete anche in questo caso contattarci trovate tutti i link in descrizione o comunque nel sito internet io vi consiglio comunque di contattarci piuttosto che comprare direttamente dal sito tranne il videocorso risveglia i tuoi poteri paranormali che credo sia in in sconto nel momento in cui uscirà questo video è scontato quindi potete probabilmente direttamente prenderlo dal sito con lo sconto per quanto riguarda gli altri corsi invece se siete interessati a conoscere le scontistiche e le opzioni di ratizzazione è meglio parlare con la mia collaboratrice ma vediamo un po adesso che cosa sta accadendo ai 12 segni dello zodiaco in amore sia per coppie sia per single eccoci qui alziamo ariete ok un meraviglioso re di bastoni l'ariete prende l'iniziativa e lo fa anche con una certa consapevolezza cioè la vedo l'ariete molto in gamba oggi sicuro di sé sa quello che fa e sa come va fatto e credo anche che sia capace di dirlo come dire è una riete capace di esprimerlo anche molto bene toro il toro un dieci di bastoni il toro sta vivendo un momento di pesantezza e di stanchezza sicuramente però non è solo non è solo è accompagnato in un certo senso dalle sue guide che metaforicamente parlando ragazzi guide possono essere intese come guide spirituali guide appunto che ci seguono da altre dimensioni come gli antenati come come gli animali guida come gli angeli oppure guide proprio fisiche perché a volte sono proprio i nostri amici ad aiutarci i nostri conoscenti a essere accanto a noi a darci i consigli giusti gemelli wow il gemelli gemelli se la sta godendo c'è il cavaliere di coppe quindi o qualcuno viene da voi o voi andate da qualcuno con la vostra coppa e lo fate anche con una certa nonchalance cioè vedo anche rapidità di movimento vedo gioia vedo un bel sorriso ottimo il cancro ha un cavaliere di bastoni il cancro sta prendendo un'iniziativa o sta vedendo qualcuno che prende un'iniziativa molto bella perché anche un'iniziativa di liberazione quindi ci sarà questo gesto questa azione che viene compiuta da voi o dall'altra persona che è un po' come liberarsi da una vecchia pelle e trasformarsi in qualcosa di nuovo di più bello di più leggero leone o con il leone abbiamo la papessa c'è da capire c'è da studiare da analizzare la situazione il leone ci deve pensare ma soprattutto deve osservare quindi magari non c'è comunicazione aperta chiara ma c'è un'attenta analisi che servirà in un secondo momento la vergine ha un nove di coppe beh ma la vergine sta bene la vergine sta bene così come e sì manca qualcosa questo è vero manca qualcosa perché c'è sempre l'uomo ha sempre quel desiderio di quel qualcosa in più o di diverso però possiamo anche volendo rimanere nella posizione in cui siamo e agire e andare verso il nostro desiderio con calma possiamo anche osservarlo da lontano per un po' questo desiderio magari è qualcuno che sta osservando noi con desiderio state attenti ai sogni vergine state attenti ai sogni perché potrebbero rivelare qualcosa di interessante in questi giorni bilancia re di coppe wow beh io credo che chi è in coppia della bilancia se la sta passando benone perché comunque i sentimenti sono forti chiari solidi e chi invece è singolo è pronto ad accogliere l'amore e ha una bellissima energia in questo momento quindi se attirate qualcuno in questi giorni bene ma attirate sicuramente qualcosa di compatibile con voi scorpione sei di denari beh scorpione dare ricevere è questo il tema del momento e questo è soprattutto comprendere che anche nella diversità siamo importanti allo stesso modo cioè cercate di non vedere né voi come dire cercate di non sminuire né voi né il vostro partner o la persona con la quale state avendo a che fare o se siete proprio single che non hanno niente per le mani e nessuno nella testa cercate di non sentirvi né inferiori agli altri né superiori agli altri perché non è una bella energia con cui attrarre piuttosto considerate che ciascuno ha qualcosa da dare cose diverse sì ma non migliori o peggiori siamo arrivati al sagittario suppongo 10 di denari bene bene perché il sagittario in questi giorni oggi comunque può vivere momenti molto tranquilli molto pieni direi che c'è proprio questa sorta di pienezza e di abbondanza anche emotiva oltre che materiale c'è un c'è un sentirsi circondati da tutto ciò che desideriamo in particolare dalle amicizie dalla famiglia e perché no e perché no qualcuno potrebbe qualcuno single si attira qualcuno si attira persone in questi giorni attrae sicuramente persone in equilibrio con se stesso chi ha invece un partner ma godetevela semplicemente capricorno 3 di coppe ah beh il capricorno sta pensando un po' a come divertirsi il capricorno forse ha bisogno di qualche distrazione sia per chi è in coppia ragazzi ecco o vi distraete con il vostro partner e quindi cercate di pensare a qualcosa di bello da poter fare con il partner oppure qualcuno potrebbe pensare magari a distrarsi con qualcun altro sta pensando a qualcun altro ecco chi invece single chi invece single desidera solamente qualcosa di poco pesante poco stressante cioè i single non vogliono davvero stressarsi la vita per niente è ok perché state focalizzando i vostri pensieri in modo positivo quindi attrarrete cose positive va benissimo acquario sei di spade l'acquario acquario o vi sentite osservati o voi state osservando qualcuno senza cercando di non farvi notare questa cosa esatto può essere in entrambi i sensi ma non non si è pronti ancora per un approccio o per una mossa cioè proprio sia in una fase di osservazione che o state facendo voi o sta facendo qualcuno con voi state attenti alle intenzioni di quelli che vi osservano perché non so se sono buone state attenti acquario e infine pesciolini cavaliere di denari bello i pesci stanno andando stanno andando per la loro strada piano con calma ma creando abbondanza attorno a sé quindi se siete in coppia questi sono ottimi giorni per andare avanti nel vostro costruire la relazione un passo alla volta se invece siete single questi sono giorni in cui vivere la vostra vita senza pensare troppo al dover attrarre non ne avete bisogno dovete costruire su voi stessi e sarà naturale poi attrarre quello che è più consono a voi quello che è più in sintonia con la vostra energia ma avete davvero una bella energia quindi ottimo e infine vediamo cosa i nostri angeli hanno da aggiungere alle energie del giorno vediamo scaduto un po di roba vediamo quale suggerimento o consiglio possono darci ok ne sono cadute due vediamole ok due di coppe e appeso è molto semplice non dovete avere fretta soprattutto in amore nessuno di noi in questi giorni deve avere fretta dovete vivere le cose con calma dovete sentirle più che altro semmai appunto lavorate di sensibilità di sensitività poi i miei studenti di telepsichia sanno benissimo come percepire quando ci sono questi momenti perché si tratta proprio di stare in ascolto e l'ascolto ci serve per capire che cosa gli altri sentono provano ma soprattutto ci serve per capire che cosa noi davvero stiamo emanando a livello energetico nel mondo fuori e per emanare la giusta energia e quindi per attirare le persone giuste o per attirare le persone nel modo giusto noi dobbiamo essere per primi amorevoli e noi dobbiamo essere per primi pronti a dare e ricevere in modo uguale una coppa io la do a te e una coppa tu la dai a me quindi non abbiate fretta questi sono giorni in cui è possibile vivere le relazioni in modo molto sereno non c'è oggi in questi giorni appunto non ci sono grandi movimenti o turbamenti ma semplicemente godiamoci quello che abbiamo e occhi aperti perché potrebbe appunto arrivare qualcosa di molto interessante più avanti e con questo ragazzi io vi saluto spero come sempre di esservi stata utile vi mando un abbraccio e alla prossima